mi lavi tutto ma chi è quello di qua? vado, 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 vado vado, vado, vado ma chi è quello? eh? buoncino di pasta a piacere e iniziamo a combierli le maize maniche lo fate con comodoro, mozzarella e basilico le farfalle con bressan piccoli baracagnolini no? e il rosilli con pesto o il foglio di papà cos'è che sta facendo il video con papà? in che senso? guarda che bella mia macchina è già arrivata che amore ma va bene ma chi è? un cane che bella che è hai visto che bella cagnolina? assomiglia a te però cos'è un panico? ciao noi vi salutiamo la Grazie a tutti.